Nel pomeriggio di ieri, nell'aula magna del liceo socio-psicopedagogico Pascasino di Marsala, si è svolta la manifestazione dal titolo La Scuola dell'impegno, nel corso della quale il Rotary Club Lilibeo Marsala-Isolegadi, presieduto da Marcello Linares, ha premiato 12 studenti diplomatici nell'anno scolastico 2015-2016, che si sono maggiormente distinti nel loro percorso didattico alla presenza del Presidente della Libera Università Tito Marrone di Trapani, il Professor Antonio Tobia, e della Presidente del Tribunale di Marsala, Dottoressa Alessandra Camassa. Presenti, tra gli altri, anche il Vice Presidente dell'Ars, l'On. Giuseppe Lupo, e l'Assessore alla Cultura del Comune di Marsala, la Professoressa Clara Ruggeri. La Scuola dell'impegno è un'attività che ormai fa parte della tradizione del Rotary Club Marsala Lilibeo-Isolegadi, una consegna, di un riconoscimento, di una targa a questi giovani che si sono distinti, di tutti gli istituti superiori della città di Marsala. Viene premiato unicamente il merito ed è anche un'occasione, un'opportunità per tornare a parlare di merito, quale criterio qualificante per ricoprire un ruolo nella società e scoprire quale sia questo ruolo. I ragazzi da noi in Sicilia vivono una difficoltà particolare, perché se la disoccupazione è generale in Italia, da noi la disoccupazione ormai è endemica, credo che non sia neanche collegata alla recente, relativamente recente crisi economica. Quindi questi ragazzi dobbiamo in qualche modo motivarli, perché una volta mia madre mi diceva magari studia tanto e sicuramente ce la farai. Adesso forse a questi ragazzi di oggi che si impegnano, forse non lo possiamo neanche tanto dire. Quindi mi piace essere qui anche per cercare di trovare invece una motivazione, trovare un perché, magari anche con l'esempio del mio lavoro. Una bellissima iniziativa del Rotary Club, presieduto dall'avvocato Marcello Linares, qui a Marsala in collaborazione con gli studi scolastici, per premiare l'impegno dei giovani che si sono davvero dati molto da fare, hanno preparato degli elaborati importanti sui temi della legalità, del merito, e sicuramente su di loro che dobbiamo puntare. Anche per questo la presenza mia qui, in rappresentanza dell'Assemblea Regione Siciliana, nel nostro Parlamento regionale, per testimonare la vicinanza delle istituzioni che vogliono incoraggiare questi processi di crescita, di sviluppo, di affermazione dei valori della legalità sul territorio. Grazie a tutti.